Prima di ogni allenamento una cosa molto importante da fare sempre è riscaldarsi e allora fatelo per 15 minuti potete scegliere tra la corda dei jumping jack oppure con la corsa a ginocchia alte Oggi eseguiremo un workout per le vostre gambe quindi andremo ad eseguire degli squat a parete mi raccomando ricordatevi il tempo 30 secondi di tenuta mi raccomando appoggiate e scaricate tutto il peso sul vostro tallone non state sulle punte Pronte? Via! Pronte? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.